Qualche giorno fa, sul quotidiano online del trasporto marino Shipping Italy, la notizia alla portaerei Garibaldi, una volta dimessa dalla linea operativa della Marina Militare Italiana, diverrà un sito museale a Genova. Il progetto, guidato dall'ammiraglio Sergio Biraghi, già capo di Stato Maggiore della Marina, è oggi vicepresidente del Centro Studi di Analisi sulla Marettimità Bono. Siamo in pieno ferragosto. E le notizie non vanno sottovalutate. Ricordo a Taranto qualche decennio fa si facevano le cose più bizzarre e pericolose proprio in questo periodo. In queste ore le prese di posizione del senatore Mario Turco e del consigliere regionale Enzo Di Gregorio, i due esponenti politici, spingono affinché Taranto possa avere proprio con il Garibaldi un'esperienza museale di questo genere. Un grande contenitore museale che con gli spazi adatti e le modifiche necessarie, aggiungiamo noi, possa diventare propulsore di iniziative culturali di informazione e spieghi ai visitatori il percorso di vera innovazione che la nostra Marina Militare ha saputo fare in questi decenni, con mezzi finanziari esigui e contando sulla proverbiale preparazione dei nostri ammiragli pianificatori. Un paio di precisazioni alla politica e non soltanto. È inutile riproporre esempi paragonando l'attuale portaerei Giuseppe Garibaldi all'incrociatore Vittorio Veneto per il quale si mosse un certo consenso per farne un museo galleggiante. Le due situazioni sono completamente diverse. Mentre il Vittorio Veneto era pieno d'amianto, il Giuseppe Garibaldi è completamente bonificato. Il primo aveva dei gravi problemi manutentivi. La portaerei Garibaldi è nave ancora efficiente. Secondo aspetto. Alla politica vorrei rammentare, prima di trasformare questo discorso molto serio nella solita bagarre, che servono molti soldini per fare del Garibaldi un museo navale galleggiante e che ne serviranno tanti ogni anno per fare le manutenzioni utili a mantenerlo in vita. C'è una strada. Il coinvolgimento dei privati o quasi privati, come Eni, Acciaierie d'Italia, Leonardo, che a Taranto vengono ospitati degnamente. Poi, anche qui, servirà a gestire il tutto con le persone giuste al posto giusto, evitando i raccomandati di turno, che rischierebbero di far fare una brutta figura a tutti, Giuseppe Garibaldi compreso. Ma attenzione, a Genova si sono già mossi. E noi?